Il Vangelo dell'incontro di Maria con il Risorto per me è uno dei più belli in assoluto. È davvero un incanto umano e divino. Intanto potremmo dire con una parola tecnica, c'è un climax, vale a dire un crescendo. Prima gli angeli e questi angeli o quest'angelo fa una sola domanda, perché piangi? Poi arriva il giardiniere, lo pseudo giardiniere e fa due domande, perché piangi? Chi cerchi? E poi, finalmente, lui non più sottomentite spoglie. E qui arriviamo al colpo di scena e si riduce a due parole. Maria Rabbuni Non era possibile dire tutto con mille parole, ma con due parole si è detto tutto. Il figlio di Dio, nato da donna, si rivolge a questa donna, chiamandola per nome. E lei risponde, lei donna, si rivolge al figlio di Dio che è stato uomo ed è risorto. Rabbuni Che non vuol dire maestro, vuol dire mio maestro. Pensiamo a noi. Io credo che se riusciamo anche noi a interiorizzare questo stupendo dialogo di due parole, noi realizziamo l'incanto della preghiera, l'incanto della fede, l'incanto, me lo lasciate dire, l'innamoramento dell'amore di noi persone umane per il figlio di Dio. Io lo auguro a me e a tutti voi di sentire che viene pronunciato da Lui il mio nome e che io, noi, possiamo dirgli Rabbuni Cristo è risorto. Alleluia! Grazie a tutti!